Il progetto nasce ormai da tre anni fa e poi per motivi pandemici abbiamo dovuto mettere in stand by. Oggi finalmente riusciamo a presentarlo, presentiamo una mostra di arte contemporanea con il progetto Porto Emponani all'artista Pietro Ruffo e presentiamo l'apertura della Casa Museo. La Casa Museo è questa casa che da sempre appartiene a mia famiglia che è stata chiusa per tanti anni e soltanto vissuta dalla stessa. L'idea è piano piano riaprirla in modo programmatico e in modo molto diciamo non al 10% nel senso che all'inizio verranno accettati solo gruppi di 15 persone due volte al giorno per una settimana. Capiamo un po' se la casa ha una peculiarità fondamentalmente a questi corami, questi cuoi di cordoba, le pareti e perciò non avendo riscaldamento si sono mantenuti come fossero fatti ieri perfettamente. Il motivo è che non ci sono sbalzi di temperatura e perciò già non sappiamo se il calore umano e la temperatura umana possono andare a nuocere a queste pareti. Perciò noi inizieremo così, poi dopo un primo anno cercheremo di capire cosa è successo, io immagino non sia successo niente e perciò abbiamo la possibilità di aprirla ancora di più. L'idea è di creare un polo aggiuntivo all'offerta del Comune di Siena e della città e poter dare anche noi il nostro contributo alla città. Apriranno fra 48 ore praticamente le visite e spieghiamo come fare a prenotarsi per queste visite e cosa c'è poi da vedere in questo palazzo. Assolutamente, le visite inizio tutto della parte cortemporanea, perciò del cortile, apriamo domenica al pubblico, poi saranno aperte dal martedì alla domenica e sono gratuite. Basta venire al vicolo del Pollaiolo, uno si mette in fila e lì abbiamo l'entrata, dà il suo nome nativo e si misura la febbre ed entra poi ad assistere a quell'installazione immersiva dell'artista Pietro Ruffo. L'apertura è dalle 7 alle 10 perché c'è un videomapping, perciò abbiamo bisogno dell'oscurità. Invece per quanto riguarda la Casa Museo c'è un sito internet che è www.palazzochigizondadari.com dove c'è visite, uno si può segnare, trova lo slot in cui c'è ancora disponibilità e si presenta. Devo dire che Fabio Misciatelli è intanto un grandissimo fascitore di arte e di cultura, voglio dire, quindi ci siamo trovati subito benissimo e quindi lo voglio ringraziare perché questo palazzo ha una centralità anche da un punto di vista della collocazione che consentirà di avere una serie di dialoghi e con il nostro Museo Civico e con il Santa Maria della Scala, l'OPA e la Cattedrale. Quindi da questo punto di vista mi pare che avere aperto per mostrare queste opere d'arte così straordinarie come quelle di Ruffo che è un autore che non ha bisogno di spiegazioni, credo che sia un'operazione elevata e un'operazione che è esattamente in linea con quelle che sono le prospettive di questa amministrazione. Era più di un anno che ne parlavamo, poi la pandemia ha un po' frenato. sapete bene che Misciatelli ha delle esperienze molto importanti a Roma come per esempio il pastificio Cerere, quindi c'è la possibilità davvero di un dialogo sul contemporaneo assolutamente importante e assolutamente innovativo anche per quanto riguarda la collocazione delle opere in un palazzo con queste caratteristiche. Mi aspetto sempre di più che le persone che vengono a Siena anziché fare una giratina per così dire e poi andare via guardando in maniera anche un po' smarrita quelle che sono le nostre splendide piazze abbiano anche il coraggio di entrare nei nostri spazi perché questa città è un'opera d'arte in tutti i settori, basta guardarsi intorno un'operazione di questo genere significa aprire un mondo e una tradizione e anche una storia di una famiglia che ha potuto fare un'operazione così evoluta sia da un punto di vista edilizio sia da un punto di vista artistico. Quindi il tema è che sempre di più il turismo si trasformi da mordi e fuggi in un turismo più attento e più rispettoso di quelle che sono le nostre tradizioni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!